Ma è così difficile capire, lo dico da papà che frequenta i campi di calcio dei ragazzini, che se ci sono squadre di serie A con 11 stranieri in campo, poi in nazionale non possono arrivarci dei geni e poi la fine che si fa è questa, ci è arrivato anche il presidente del CONI Malagò a dire sì, forse effettivamente bisognerebbe prendere in considerazione il fatto che bisogna limitare la presenza di stranieri almeno sui campi di calcio. Noi ci occupiamo di clandestini che rompono il palle nelle stazioni, nei bar in metropolitana, fuori dagli ospedali, dai centri commerciali, poi però chi semina vento raccoglie l'eliminazione dai mondiali di calcio. Detto questo una partita di pallone finisce al novantesimo, qua c'è gente strapagata, ci sono milioni e milioni di euro che circolano e chissà dove finiscono. Oggi la Lega si batte per aiutare le società, soprattutto quelle direttantistiche, quelle dove il presidente deve compilare 18 mila moduli e rischia lui penalmente, se sbaglia, compilare uno di questi moduli per far giocare migliaia e migliaia di bambini che altrimenti sarebbero in strada. Ecco, questo è lo sport che mi interessa più che quello dei calciatori strapagati. Non ci si sorprenda poi se tutto è solo business, se tutto è solo denaro, se si finisce in mano ai procuratori che fanno i milioni, se la nazionale di calcio italiana fa schifo, come ha fatto schifo ieri sera, poi mi dice che è colpa dell'allenatore, è colpa dei centrogampisti, è colpa del presidente, è il sistema che è marcio, evidentemente. Solo soldi, poco valore, poca fatica e poca valorizzazione dei nostri ragazzi, dei nostri vivai. Onore a quelle squadre che ancora ci sono che puntano sui ragazzi, che puntano sulla qualità, che puntano sulla fatica e che non vanno a comprare gente nel resto del mondo anche se fa schifo solo per arricchire tizio, arricchire caio.